Nicola Salini, candidato sindaco al Comune di Penna Sant'Andrea, ha perso contro l'altro candidato, Severino Serrani, per 48 voti. Sì, una sconfitta elettorale ma senz'altro una vittoria morale, perché come giustamente ha appena detto lei, soltanto 48 sono stati i voti che mi ha distanziato dal riconfermato Severino Serrani. Naturalmente ringrazio tutta la cittadinanza per l'importante sostegno che ci ha dato, e che sono certo in questi cinque anni in cui svolgeremo una seria opposizione e un serio controllo sull'attività amministrativa, potremmo mettere in campo tutte le azioni che si declinano in un rinnovamento nel modo di pensare, di programmare e di amministrare il bene comune. Secondo Severino Serrani la sua sconfitta è legata al sostegno che ha avuto da parte di due consiglieri regionali, Sandro Mariani del PD e di Gian Vittorio della Lega. Lei come replica? Io replico con un sorriso, perché il nostro sindaco evidentemente è fortemente condizionato da quelli che sono i giochi della politica che vanno oltre la competizione elettorale. Per quanto mi riguarda non ho avuto nessun padrino politico, né Sandro Mariani che tra l'altro non è più del Partito Democratico, è un consigliere di una lista civica regionale, e né tantomeno del consigliere regionale Tony Gian Vittorio. Naturalmente capisco che per qualcuno portare in auge quelle che sono le alture politiche può essere un vanto. In questo momento posso senz'altro affermare che i padrini politici sono stati soltanto i cittadini ai quali rivolgo ancora il mio totale ringraziamento, senza considerare il fatto che eventualmente qualche candidato consigliere, e qualche consigliere regionale abbia potuto attenzionare con entusiasmo questa forma di un'energia rinnovata di fare politica, di un nuovo modo di fare politica. La sua sconfitta è arrivata al photo finish. Lei ha creduto per qualche momento di poter vincere? Ma io diciamo che ho creduto sempre di poter vincere perché naturalmente il progetto messo in campo era un progetto che in qualche modo richiedeva un coraggio ed una generosità importante di tutta la popolazione. Non ci siamo riusciti per soli 48 voti, ma sono convinto che la metà della popolazione ci sosterrà in questo quinquennio e sono certo che una reale e attenta opposizione farà del nostro comune sicuramente un ambito di miglioramento in termini di meritocrazia, trasparenza, partecipazione e soprattutto legalità.